I numeri non sono rassicuranti, ma comunque ieri sera la maggioranza è riuscita a portare a casa il consolidato 2020. Undecisi due voti contrari e l'assenzione dell'indipendente Rosario Tranito. L'atto finanziario era una priorità per consentire di completare la procedura di assunzione di un nuovo dirigente che verrà collocato nel settore ambiente. Non è stata necessaria l'immediata esecutività. L'approvazione è arrivata nell'arco di pochi minuti a seguito del prelievo chiesto dal centrista Salvatore Incardona che ha sostenuto il consolidato portato in aula dall'assessore, a sua volta centrista Danilo Giordano. Questa volta, con una soglia di voto inferiore, i progreco sono riusciti a mettere insieme i numeri sufficienti con alcuni esponenti di opposizione che comunque sono rimasti in aula. Tre voti favorevoli si annoverà quello del capogruppo di liberamente Vincenzo Casciana che ha voluto motivare la scelta e che a sorpresa, viste le ultime evoluzioni che hanno portato il gruppo fuori dalla maggioranza, ha dato supporto all'atto finanziario. Non è stato possibile invece dar seguito al provvedimento che tocca la polizia municipale. e se ne riparlerà giovedì prossimo, il sindaco Lucio Greco, che non era presente in aula, almeno sul consolidato, ha potuto fare affidamento sulle risorse di maggioranza anche se il cammino non si presenta per niente facile. Fare chiarezza, infatti, è questa la richiesta più insistente che arriva da pezzi importanti della sua maggioranza, un'istanza che è stata avanzata anche in consiglio comunale dopo giorni nuovamente convulsi. A spiegarlo è il capogruppo di una buona idea, Davide Sincero. Lo stesso Sincero, così come il gruppo civico, attende un confronto in maggioranza. Per Sincero, proprio l'alleanza del sindaco è arrivata al giro di Boa ed è importante, anche per Greco, capire chi effettivamente stia sostenendo la sua maggioranza e il progetto politico. Secondo Sincero, infatti, bisogna chiedersi se tutti gli alleati credano appieno nel progetto. Il capogruppo civico è certo che non si possa avere una maggioranza in giunta e una diversa invece in consiglio comunale. Chi è rappresentato in giunta quindi non può agire in totale autonomia quando si tratta dell'attività di consiglio comunale. Secondo Sincero, serve coerenza. L'appello rivolto a Greco è partito anche dal consiglio comunale e da un altro esponente di maggioranza, l'indipendente Luigi Di Dio.